Francesco Esposito, possiamo definirlo il big della mediana bianco-rossa, ma ma sei fatto tante trattative, tu eri uno dei nomi più ricercati, la dirigenza voleva te, come sei riuscito a convincerli e come loro hanno convinto te a venire qui all'Aragona? Diciamo che la trattativa si è svolta subito con una chiamata da parte del mister, è durata non più di 15 minuti, abbiamo parlato soprattutto di calcio, mi ha colpito molto il suo entusiasmo e poi siamo incontrati, ho avuto modo di conoscere il presidente, il vicepresidente, insomma mi hanno subito convinto di questa nuova avventura, poi Vasto e la Vastese la conosco perché sono 4 anni che faccio questo girone, quindi è stato facile dire sì a questa società. Abbiamo parlato di Amelia, quanto è stato importante nella scelta la presenza di un allenatore big come lui? Sicuramente mi ha fatto molto piacere la sua chiamata e poi ho avuto modo di conoscerlo e di confrontarmi con lui, chiaramente lui è molto preparato, visto il suo trascorso sia da giocatore, adesso sta iniziando il suo percorso d'allenatore, è una persona che conosce benissimo il calcio e può solo insegnarci a come si si comporta fuori dal campo, ma soprattutto dentro il campo. Insieme a Bomber Dosanto sei il più esperto del gruppo, questo per te è uno stimolo in più per dare ogni giorno il massimo? Sicuramente sì, perché quando io negli anni passati facevo l'under in questa categoria, tendevo molto ad imparare dai più grandi e sicuramente questo è il mio decimo anno in questa categoria, quindi ho acquisito anche io la mia esperienza e cercherò in tutti i modi di trasmettere ai ragazzi più giovani, dato che come dici te io sono uno dei più grandi e ho visto molto entusiasmo da parte loro e questo è un fattore molto importante, dato che in questa categoria la differenza la fanno soprattutto i giovani. La società ha detto che il mercato non è ancora chiuso, siete nei primi giorni di ritiro, ma secondo te questa va stese, dove potrà arrivare? Adesso penso che sia abbastanza riduttivo e relativo parlare di queste cose, perché siamo solamente al secondo giorno e abbiamo fatto solo delle sedute fisiche, non tattiche, quindi ci sarà modo nei prossimi giorni di dire questo e vedremo, noi siamo molto motivati e cercheremo di portare questa società il più in alto possibile.